Mi piace svegliarmi alla mattina per essere il primo in cima alla montagna. Godermi i primi raggi del sole e lo scricchiolio della neve sotto i piedi. Mi piace l'aria fresca che ti dà il buongiorno e ringrazio ogni giorno di poter vivere e godere di questa immensa natura che mi circonda. Lo sci è il mio lavoro e mi piace molto. È libertà di espressione. Libertà che si trasforma in una sciata dove sei uno con la neve e il terreno. E mi piace tanto da sentire il desiderio di conviderlo con qualcun altro, prendendolo per mano per fargli provare quello che sento importante. Sceare e divertirsi in un parco giochi gigante. Dove sono le radici? A casa mia, le Dolomite.